Una macchina che veniva da giù doveva buttarsi dentro e gli ha spacciato la macchina. Però se uno rallenta, non rallenta no. Auto che sfrecciano, claxon che suonano per segnalare l'arrivo ai veicoli che circolano in senso opposto. Camionisti che chiedono ai residenti di aprire i cancelli delle abitazioni per riuscire a passare quando i due automezzi si incrociano. Situazione non più sostenibile per i residenti di Via Codette, strada secondaria che dall'ancinigo di Villorba porta verso Pezzan di Carbonera. Nonostante il limite dei 50 orari, se potete verificare, è una cosa enorme. Una strada pericolosa, stretta e piena di curve, ma che non scoraggia gli automobilisti a premere sull'acceleratore, nonostante il limite di 50 all'ora. Una strada che vieta il transito agli automezzi ma che durante i giorni feriali passano lo stesso. Segnalazioni che i residenti hanno già fatto al comune. Mi hanno detto che purtroppo anche i camion, i tir, preferiscono pagare la multa qualche volta ed evitare tutto il giro largo per andare in autostrada. Diversi anni fa ho fatto mettere il dissuasore e c'è qualcuno che le ha fatto togliere, perché questa è una strada impraticabile. Nelle ore di punta dei giorni feriali, dalle 7 di mattina alle 9 e la sera dalle 16 alle 18, la strada si riempie di traffico, minando la sicurezza dei residenti che abitano nelle case che si affacciano su Via Codette. L'altro giorno stavo qui tagliando la siepe, una macchina mi ha preso il sedere e c'era il segnale in fondo, il giallo, il triangolo. Un appello che i residenti lanciano attraverso i nostri microfoni nell'attesa che l'amministrazione si occupi di mettere in sicurezza la via. Mi dispiace ma io vado avanti.